Da dove nasce l'idea di scrivere Addio Fantasmi, Nadia Terranova finalista al Premio Strega 2019? E' l'idea di un ossos, di un ritorno a casa, di una donna che vive a Roma ma è originaria di Messina dello Stretto e quindi torna nella sua città natale. Cos'è per Nadia Terranova la madre? E' qualcosa da cui non esiste riparo, così come Perida, la guidara, la protagonista del romanzo. E' più difficile essere figli o scegliere di essere madri? Ma essere figli, tutti siamo figli, non c'è nessuno di noi che non lo sia. Essere madri o essere padri è invece qualcosa che possiamo scegliere. Nadia, Messina e anche la tua città, cosa significa tornare alle proprie origini? Ogni volta che torno a Messina mi sembra di non essermene mai andata e di fatto non lo sono, sono una messinesse nel mondo ma per me casa è soltanto quella lì. Grazie. Ringrazio Nadia Terranova, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.